La formazione di centrosinistra sarà veramente la guida per una nuova Italia e l'Urivo e domani il Partito Democratico saranno il punto di riferimento per tutti noi. Cominciamo subito con il gruppo parlamentare che avrà 340 parlamentari, 340! Avevano fatto la legge elettorale per farci perdere e abbiamo vinto lo stesso! Noi siamo qui, stasera qui, a rappresentare i leader dell'Urivo ma la vittoria è stata fatta da tutta l'Unione e quindi salutiamo tutti i leader dell'Unione perché senza questa larga coalizione non saremmo mai stati in grado di vincere senza di loro. Grazie a tutti e buonanotte! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vado Antonio, vado Antonio. Vado Antonio, vado Antonio.